Avvio di settimana decisamente negativo per le principali borse a preoccupare gli investitori, i negoziati europei sul salvataggio di Cipro e le misure annunciate di tassazione dei conti correnti dell'isola. Piazza Fari limita le pesanti perdite della mattinata, meno 2,8%, cedendo in chiusura lo 0,85%. La peggiore invece Madrid, che lascia sul campo l'1,29%, male anche Francoforte e Londra, entrambe sotto di mezzo punto percentuale, e anche Parigi limita i danni con meno 0,48%. A sottolineare la paura dell'effetto contagio e della corsa ai sportelli, a Milano si registra una raffica di vendite sui titoli bancari. Montepaschi, Unicredit, Banco Popolare, Intesa San Paolo. Tra i migliori svettano invece Parmalat e ST Micro. Male anche il versante titoli di Stato, lo spread BTP Bunda è risalito a 320 punti base, euro su dollaro ai minimi con la moneta unica, 1,29%.